La chitarra di Gianmarco Astori ad Acoustic Franciacorta sarà il chitarrista con Anna Dilena ad aprire la serata dell'8 settembre a Capriolo, ospite Andrea Mirò, compagna di Enrico Ruggeri. Sono otto serate quest'anno, ho contato 27 eventi addirittura perché ogni serata normalmente ci sono tre concerti, spesso di tre generi proprio diversi e c'è stato l'inserimento quest'anno di tre nuovi comuni che sono Iseo, Capriolo e Cazzago San Martino. Settima edizione per il festival di musiche e suoni dal mondo promosso da otto comuni della Franciacorta. Dal 3 al 12 settembre le corde di chitarre acustiche vibreranno all'interno di suggestive cornici, dal sagrato della pieve di Sant'Andrea Iseo al castello di Bornato a Palazzo Francesconi a Provaglio. Vittorio De Scalzi che sarà il castello di Passirano il 9 settembre, giovedì 9 settembre, è uno dei fondatori dei New Trolls, ne è sempre stato l'anima e direi che ha scritto alcune fra le canzoni più belle di questo gruppo che sono rimaste nella storia della musica leggera italiana. Fitto il calendario di appuntamenti attesa per Finardi, venerdì a Iseo, tra gli spettacoli di cartello sabato il tributo a De Andrè di Giorgio Cordini, mercoledì Andrea Mirò nella piazza municipale di Capriolo. Pensate che telefonano da molto lontano per venire ad ascoltare Eugenio Finardi in quella veste perché lui verrà da solo, verrà da solo forse si porterà il suo chitarrista acustico.